Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nell'episodio numero 31 signori Allora intanto vi ringrazio, so come al solito, per i like, per i commenti, per i suggerimenti che mi date a ogni video E vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 2000 iscritti più velocemente possibile signori Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando Allora, siamo riduci da un grandissimo episodio di ieri in cui abbiamo recuperato un sacco di diamanti signori Con il nostro bellissimo piccone, fortuna Ora, vedrete un attimino il mio inventario diverso, forse rispetto a ieri e anche i livelli decisamente calati Perché io sono andato nel nether, off camera, perché volevo vedere e trovare le sabbie dell'anima per poter fare una sorta di ascensore d'acqua Ma non l'ho trovata signori, ma ho trovato la morte e questa è stata una cosa molto molto brutta Perché volevo la sabbia dell'anima? Semplicemente per fare un ascensore d'acqua signori Perché visto che abbiamo il nostro bellissimo farm di scheletri che ci dà esperienza come se non ci fossero domani Qua intanto si è ossidato tutto il rame e la cosa mi piace tantissimo Allora, la fontana ha un suo carattere, mi piace Cosa faremo nell'episodio di oggi signori? Nell'episodio di oggi andremo a trasformare il mob spawner che fondamentalmente non ci serve più Anche se qualcosa forse casca, no, non è cascato più niente Nel nostro magazzino signori, ebbene sì Lo trasformeremo nel nostro magazzino Perché non abbiamo un magazzino Ci serve un magazzino così alto? Forse no, fondamentalmente no Però potrebbe essere una cosa carina Dovremmo modificarlo un bel po' E vediamo un attimino cosa si può fare Intanto faremo una scala tutta esterna che girerà fino a che ci porterà sopra Più o meno, in modo tale da riuscire ad entrare comodi da qualche parte E poi questo tubo centrale lo utilizzeremo per la discesa veloce Metteremo l'acqua, bloccheremo tutto E tanti cari saluti Prima cosa da fare signori Ci serve tantissimo legno Ora, il mob spawner è di pietra La base qui l'avevamo fatta di legno scuro Quindi direi la scala tutta tonda Farla con i gradini di legno scuro Quindi signori, qui noi qualcosina dovremmo averla Ma sicuramente non tutta quella che ci basta Abbiamo un gradino Ottimo E 18 assi di quercia scura Non ci basteranno mai nella vita Facciamo così Recupero una caterva di alberi lì di quercia scura Di quercia scura E poi signori, ci vediamo appena parte la costruzione Così non mi annoio con questa prima parte di video In cui devo semplicemente rompere legno Anche perché tra l'altro sta calando la notte Quindi tra un poco dovrò anche andare a dormire Quindi taglio per voi rapidissimo Per me è abbastanza lungo Perché dobbiamo spaccare tanta legna Signori, non voglio rimanere a metà strada Che poi mi manca la legna Poi devo buttarmi No, anche no, anche no Ok signori Ho raccolto tantissimo legno Che penso ci basta Da qua alle prossime 70.000 costruzioni Prima cosa che andiamo a fare Signori Userei i blocchi di terra Intanto Per salire sopra Perché noi dobbiamo comunque bloccare l'acqua Che c'è là sopra L'acqua che c'è là sopra La dobbiamo chiudere Quindi non ci serve più Che ci sia lo scorrimento di acqua Quindi blocchiamo i canali di acqua Che ci sono qua in mezzo Va bene Siamo andati un poco più avanti Ma va bene così L'importante è non cadere No, no, perfetto Era una altezza giusta Ok Queste torce le lasciamo Perché comunque ci possono servire Contro un discorso di mob Apriamo un attivino E capiamo Se c'è qualche Ospite particolare Ma non penso Perché comunque la farm Non è che funzionasse per la quale Quindi E infatti E infatti non c'è nessuno Signori Bene Quindi Per prima cosa Chiudiamo questi Flussi d'acqua Signori Perfetto Uno Che quest'acqua qua Sinceramente non ci serve più A nulla No Tu chiuditi Ok Perfetto Questo lasciamo così Apriti Apriti Questi li potremmo lasciare Tutti così Così magari Fanno anche Colore Apriti Ok E ci rimane L'ultimo flusso di acqua Di qua Perfetto E questo Le apriamo Dopodiché Signori Rimettiamo un po' di torce Al momento Così Illuminiamo un attimino La zona che mi sembra Abbastanza buia E brutta E ci viene Un grande magazzino Signori Ci viene un gran bel magazzino Che potremmo anche Modificare il tetto Potremmo mettere tutte Slab Così da poter mettere Doppie casse Perché così Possiamo mettere Semplicemente Una cassa Quindi direi Il tetto lo possiamo smontare tutto Lo smontiamo tutto il tetto Sì Sono già partita Smontellato tutto Patti Il tetto Va bene Il tetto lo stiamo smontellando tutto Come se non ci fossero domani Ok Direi di piazzare anche Però una bellissima Crafting table Che dovremmo avere Perfetto Quindi mettiamo Una crafting table Qui al centro Alziamo tutte queste botole Così non c'è rischio Che io casco di sotto E finisce male Quindi alziamole tutte Possiamo anche Questi canali Li possiamo sfruttare Per qualcosa Ma altrimenti Non mi viene in mente niente Se avete dei suggerimenti Per questi canali Per questi secondi canali Ditemelo Signori Che vediamo Cosa si può fare Alziamole tutte Alziamole tutte Veloce 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 Alza Alza Come se non ci fossero domani Passa questa parte E alza Veloce 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 Si alzano E ti abbassano Cosa divertente Va bene Va bene Allora Lo finiremo tutto in un episodio Questo magazzino Penso proprio di no Signori Penso proprio di no La bellezza Del 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 Fare le cose Con molta calma È proprio questa Che ci Spariamo due episodi Per completare Il magazzino Ok Qui sotto Poi dobbiamo fare Il flusso d'acqua Da sotto Poi metteremo l'acqua In modo tale Che noi ci possiamo Buttare direttamente E cadiamo Di sotto Allora Noi dobbiamo capire Una cosa Noi da dove veniamo Veniamo da qua Se non sbaglio Giusto Dammi un bacchetto di terra Perfetto Dove è la nostra No Non veniamo da qua Noi veniamo da qua Ok Ok Va bene Allora io direi Che possiamo iniziare A fare la scala Per salire sopra Il problema è che Dove arriviamo con la scala La scala gira attorno Al tubo centrale Tubo centrale Quindi arriveremo In una di queste Parte di qua Vorremmo mettere Delle scalette Che comunque ci fanno Salire Sopra Vabbè Intanto Iniziamo a mettere giù La scala Per salire E poi vediamo Cosa Cosa possiamo inventarci Signori Intanto Mettiamo Torniamo giù Leviamo tutto questo Broglie di terra Che non ci serve Più a nulla Ok Iniziamo a scendere Velocemente E iniziamo a fare Tutta la scala Per salire sopra Perché prima che io La craft in table L'ho lasciata sopra Con un pierla E ne dobbiamo andare a fare Un'altra Bene così Alla grande Alla grande Signori Alla grande Questo si può smantellare Tutto Perché non ci serve Più a niente Questo Ok Abbiamo ricordato Questi hopper Recupereremo pure Queste casse Signori Però qua c'è Del materiale Che vorrei Evitare di mettermi In mezzo All'inventario Ce ne sbattiamo altamente Ci vediamo tutte Le cose Signori A posto Perfetto Queste casse Se andiamo per Risco a recuperarle Non penso proprio Non penso proprio Ci proviamo E infatti Le sto perdendo tutte Va bene Ottimo Ottimo Grande così Grande così Recupero Recupero le casse E ci vediamo Ci vediamo Signori Ci vediamo Breve stacco Breve stacco Ok signori Abbiamo preparato I gradini Per iniziare La nostra bellissima Scalata La nostra bellissima Scalata Che dovrà partire Penso Da Qua No Da qua Non riusciamo Quindi aspettate un attimo In teoria La scala Deve partire Da qua Quindi facciamo così Facciamo così E piazziamo I primi due gradini Così Ok Mi può piacere Mi può piacere Poi mettiamo Un gradino Uno chiuso di qua E uno chiuso di qua Perfetto Qua mi servono Due gradini Quindi dobbiamo fare così Ok E qui possiamo mettere Gradino di qua E gradino di qua E andiamo salendo Gradino di qua E gradino di qua Più o meno Voglio fare tutto Tutto così Signori Così abbiamo Una bellissima Scala Chiocciola Che ci fa Salire fino In sopra E non rischiamo Di morire Con due gradini Mi sembra Abbastanza Comoda Come situazione Poi potremmo anche Fare tutta una struttura Laterale Con magari Le fence Per poter Rendere ancora Più sicura In sicurezza La La situazione Perché Praticamente Sto mob spawner Era diventato Un colosso inutile Era palesemente Diventato un colosso inutile Quanto meno Così ci facciamo Il magazzino Anche perché A casa mia Ho dovuto creare Un'altra cassa Perché non ho più Dove mettere le cose Signori Quindi facciamo Un bel magazzino Le mucche ce le abbiamo Le pelli le possiamo recuperare Facciamo tutta una cosa Bella Sistemata Carina Carina Veloce Veloce Rapido Rapido 4 4 E ci riusciamo Dai così Dai così Altri due di qua Per qua ci possiamo mettere Tutte le altre Le lanterne Che cadono Le possiamo metterci Le Altre Altre Liane Che scendono Possiamo ancora Abbellirla ancora di più Signori Però noi già siamo Quasi arrivati Che cosa bellissima Ah Pensavo ci volessero Aia Scusami Non posso più passare Di qua Fermi tutti C'è abbiamo un problema Giusto non abbiamo un problema E allora direi che va bene Qua signori Giusto non abbiamo un problema Abbiamo un attimino Le va a smontare Questo Questo giro di qua Perché sennò Non riesco A salire ancora Allora Poi vedremo un attimino Come sistemarlo Qua facciamo L'allargo Non dovevi metterlo lì Mannaggia te Le va questo Perfetto E poi qua mettiamo Gradino 1 E gradino 2 2 Perfetto E qui smantelliamo E qui Possiamo smantellare Sì Possiamo smantellare tranquillamente E io direi di mettere Altri gradini qui Gradino qui Gradino qui Perfetto E siamo sopra signori No 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 Proprio sopra sopra no Che devo smantellare Questo Ok E siamo sopra signori Gioco fatto La scala l'abbiamo fatta Dobbiamo semplicemente Modificare un attimino Questo Allora io direi Se voi siete d'accordo Questi slab Questi Tutti questi pezzi Di 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 pietra Li potremmo andare a sostituire Con Dell'altra pietra Il problema è che là sotto Non ci arrivo Mannaggia a lui E a chi Ti ha inventato Li potremmo andare a sostituire Con degli slab Magari diversi Magari diversi Così Da Dare anche più carattere Alla nostra Alla nostra Struttura Questi Ve li ho eliminati No Sono due Sono due Riesco tranquillamente a salire Qui ho aperto tutto Perché mi serve Poter passare E va bene Dobbiamo semplicemente Modificare questo Mettendoci gli slab E tutto è abbastanza fattibile Ok Facciamo una cosa Andiamoci a fare Andiamo a dormire Breve 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 Storia triste Andiamo a dormire un attimino Facciamo degli slab Con La pietra quella scura E mi piace E sostituiamo Tutta quanta La 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 pietra quella Ci mettiamo tutti gli slab Di pietra scura E poi Facciamo anche Allora Fermi tutti Che mi è partito Il Mi è partito l'embolo Allora Dammi tutti questi di qua Perfetto Ora questi di qua Se non sbaglio Se io faccio così Li posso modificare Non è vero Sì Perfetto Staggete E modifichami Anche questi Staggete Ora se io prendo questi E faccio così Posso fare Tutti slab diversi Staggete Perfetto E Staggete Perfetto Penso Mi bastino Penso di sì signori 3 stack Da 64 Penso mi bastino Per sostituire tutto Forse anche per fare il tetto Signori Forse anche per fare il tetto Dai Dai E' carina E' carina Fa movimento Fa movimento Se potremmo farlo un po' più corta Ma non ha importanza Nel senso Per far più movimento Potremmo farne una Dall'altro lato Che si incrocia Per fare la doppia La doppia spirale Si può valutare Eventualmente Datemi dei suggerimenti Sotto al video Signori Se avete qualche idea Migliore Rispetto alla mia Allora Se io rompo Tutti questi Di qua Questa Va levata Ok E ci metto Questi Potremmo anche Metterli No Faciamoli così Così fanno Fanno movimento La differenza Non è tantissima Perché è un poco Più chiaro Rispetto Al blocco Originario Però 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 Dovrebbe avere Il suo perché Signori Dovrebbe avere Il suo perché Occhio che Qui c'è un buco Dietro di noi Attenzione Quindi a dove Mettiamo i piedi Che direi per ora Di chiuderlo Se voi siete d'accordo Io direi per ora Di chiuderlo Anche con della terra Molto velocemente Per essere sicuri Di non Cascare male sotto Perché l'acqua Ancora non ce l'abbiamo Messa Quindi non Non mi sembra Proprio il caso Di far Questo volo Terribile Ok signori Ho sistemato Tutte le corsie centrali Ho dovuto mettere Il blocchetto Un colpo più alto Un 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 giro più alto Perché Praticamente Se no Non riuscivamo A scendere Di qua Perché andavo a toccare Praticamente qui Con la testa Quindi ho dovuto Modificare un attimino La struttura Abbiamo blocchi Per sempre Persi ovunque Però poi li recupererò Io con calma Signori Cosa possiamo inventarci Allora Praticamente L'altezza è questa Quindi direi Di levare tutte queste Slab Che non servono più A nulla E fare una sorta Di mezza scaletta Graduale Che ci faccia salire Sopra Quindi tipo Potremmo fare Lasciare Questa corsia centrale Così In modo tale Da poter Sfruttare Questa situazione Dopodiché Mettere Questo più basso Questo più basso Questo più basso Me lo fai mettere Questo più basso Questo più basso Così Da qua Già possiamo salire Praticamente sopra E questo già È tanta roba E questo stesso discorso Farlo per tutti e quattro I lati Così da un punto qualsiasi Noi comunque Possiamo scendere E recuperare La fonte Praticamente d'acqua Che c'è al centro Praticamente Nel senso Trovare l'uscita veloce Che ci abbiamo sotto Quindi direi Di levare tutte queste Slab E fare la stessa cosa Per tutti e quattro I lati In maniera molto semplice Solo che non ricordo Quanto ne abbiamo Quanto ne abbiamo Usati Ne abbiamo fatti Uno, due, tre E poi siamo andati a scendere Ok Quindi dovremmo fare Uno, uno Due E tre E poi andiamo a scendere Uno, uno Giù, giù E qui c'è poi il percorso Giustamente di là C'è l'entrata Però di qua riusciamo a salire Qua possiamo mettere una cassa E la possiamo tranquillamente aprire E tutto viene abbastanza comodo Stesso discorso di qua Stiamo per perdere l'accetta E questo è gravissimo No, non è che stiamo per perdere l'accetta L'abbiamo proprio persa L'accetta Che è finita Recuperiamo questo discorso di qua Mettiamo questo qui E andiamo di Andiamo di Di legno pesante Di acetta pesante Ci vorranno tantissime casse Signori Ci vorranno tantissime casse Questo video Mi ha rotto tutto completamente È stato esagerato Detto questo Io vi ringrazio Io vi ringrazio per i like E per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao